che lo ha reso celebre, no? La gabbia d'acciaio. Quella gabbia non l'ha fatta il destino, non l'ha fatta la provvidezza, la gabbia d'acciaio. Vuol dire che il paesaggio storico, sociale, economico è un paesaggio che riduce gli ambiti dell'azione, è fatto di azione e al tempo stesso, ne riduce gli spazi. Soggettivazione e oggettivazione vanno insieme. I valori sono ciò che mette in moto le azioni umane, certo, però io come scienziato non ho interesse, la scienza non si fa assumendo un valore, la scienza la si fa assumendo un atteggiamento verso il libro. Allora, il risultato primario di tutto ciò è che la marcia della ragione nel mondo c'è. Ci sono dei processi tipicamente occidentali che sono processi di razionalizzazione dell'esperienza e al tempo stesso, questo è il punto, razionalizzazione dell'esperienza, della razionalizzazione dell'agire, sono anche processi di decostruzione di ogni oggettività. Il disincanto, insomma, la parola chiara, il vedere il mondo senza incantesimi, nasce in un certo modo, adesso lo vediamo, per certi motivi, in un certo spazio, dentro una certa cultura, e più procede, più è una forza che dissolve gli ordini. Certo, poi ne forma di nuovi, ma quelli formati nuovi non avranno mai la consistenza di quelli dai quali abbiamo preso il nostro. Esempio, lo Stato moderno. Lo Stato moderno sembra molto consistente. No, in realtà, quando va bene, è molto efficace. da che cosa nasce? Che cos'è lo Stato moderno? È il prodotto di processi specifici che hanno la loro origine, dice bene, dentro i comuni medievali, attraverso delle soggettività che lui chiamano politici, gruppi politici, portatori di un potere illegittimo. Cioè di un potere che non si giustificava attraverso le forme della legittimità allora vigente, ma attraverso sostanzialmente se stesso. Dietro lo Stato c'è la dissoluzione dell'ordine medievale, cominciata in età molto vigente, una dissoluzione che marcia ancora più veloce quando la riforma, e dai, ecco, quando la riforma dissolve quella serietà oggettiva estremamente efficace che, secondo Marx Weber e già secondo i protestanti, era la Chiesa Cattolica e il suo modo di pensare all'esperienza umana. La riforma nella testa di Weber, che questo poi era all'interno della grande religione dei dotti tedeschi che è il protestantesimo come via attraverso la quale il soggetto si libera. nella testa di Max Weber la riforma aiuta alcuni soggetti a essere capaci di critica e erode, aiuta ad erodere oggettività. l'età moderna è una continua erosione di oggettività attraverso l'azione di singoli che è un'azione ordinativa, razionale ordinativa, certamente, per carità. In questa azione si distinguono due linee parallele, non voglio dire convergenti perché le parallele normalmente non convergono, due linee parallele non non, ecco, non intrinsecamente recugnanti l'una rispetto all'altra. Questa, ad esempio, è una delle grosse differenze tra Max Weber e Cassandra. Sono la linea della razionalizzazione della politica e la linea della razionalizzazione dell'agile economico. Non sono la stessa cosa, lo Stato non è il capitalismo. Lo Stato non è il capitalismo, quindi non è neanche la sovrastruttura che i borghesi si sono inventati, cioè esiste una specificità della politica, che è una specificità che consiste nel fatto che nella politica il potere si manifesta in forma primaria. La politica è la dimensione in cui il potere si manifesta in forma primaria attraverso l'agire di soggetti, di gruppi che lo organizzano in modi diversi. Ci sono le tipologie del potere, no? La tipologia, c'è il potere tradizionale, il potere razionale burocratico e, tanto per far vedere che non è vero che il potere riesce a stringere e costringere il potere all'interno della ragione, cioè è impossibile trasformare in burocrazia, in procedura. Ecco la terza forma di potere, quella carismatica. la presa diretta del potere sulla realtà, il luogo, la dimensione in cui si manifesta l'essenza potestativa dell'esperienza umana è sicuramente la politica e questa essenza potestativa si manifesta sempre più chiaramente quanto più vengono erose le condizioni di stabilizzazione del potere, la tradizione, e ciò avviene attraverso, ripeto, processi specifici, gruppi politici che, dall'interno dei comuni, mettono il potere in circolazione e poi la riforma è implicitamente leggera i cinti di religione e la costruzione di uno stato modello che è tanto più efficace quanto meno è tradizionale, cioè quanto meno si legittima attraverso il ricorso a categorie oggettive dell'altra tradizione. Tutto il sforzo di Hegel era di fare dello stato moderno una realtà, come dice la parola, stabile. Cioè fare i conti con quello che c'è dentro lo stato moderno. Mentre lo sforzo di Max Weber è di dimostrare che lo stato moderno è una delle forme del potere che in Occidente si presenta così, perché l'Occidente ha in sé logiche di dinamismo specifiche, dimostrate, logiche di dinamismo che sono di disincanto e di erosione. Più disincanti più vedi che il mondo è abbandonato da lui. E questo è il potere politico. A fianco di esso, interagente con esso, c'è la dimensione della vita economica. Anche qui, come il potere politico è una questione di soggetti, cioè di un capo, del suo seguito, della sua capacità di questo capo di vincere i conflitti e di stabilizzare la propria egemonia, di dare ad essa una configurazione ordinata. Il diritto è un positivista giuridico da questo punto di vista. Non crede nell'intrinseca razionalità della società, crede nel fatto che qualcuno lo pone. così dall'altra parte c'è il processo di produzione capitalistica che ha un'origine individuale. La famosa tesi dello spirito protestante. Un'origine individuale con la quale Weber ha lungamente combattuto. prima sostenendo che non si può in alcun modo far nascere il capitalismo dalla riforma, ma al massimo si può dire che i riformati credevano, quando agivano economicamente, crede di meritarsi anche la salvezza, che è un discorso di un certo tipo. Però in altri luoghi, Weber ha detto invece, che c'è proprio una imputabilità causale fra lo spirito protestante e lo spirito del capitalismo. Perché non si capirebbe l'esistenza del capitalismo se non ci fosse il motore della riforma. perché è un caso in cui la cultura agisce sulla società, sull'economia. Evidentemente stava facendo molta fatica a capire qual è questo nesso benedettissimo che è imprendibile, imprecisabile. Ma certamente è più la tesi di Weber che c'è qualcosa di più che non la semplice credenza degli attori capitalistici protestanti di salvarsi attraverso lascesi intramondani. C'è qualcosa di più. Perché c'è il capitalismo ci vuole una tesi di Weber, un soggetto molto attivo, molto dinamico e molto capace di autogiustificarsi perché poi tirando le somme la riforma è questo. Cioè ti insegno che non hai più bisogno dell'oggetto fuori di te, di Dio, per trovare una legittimazione alla tua esistenza. La legittimazione è che tu porti dentro di te quell'oggetto e lo fai diventare te stesso. O come diceva Marx, bella forza che il protestantesimo non ha preghi. Mette un preghi all'interno della coscienza di ciascuno. le due logiche, quella politica che produce lo Stato, che è sempre un prodotto di soggetti interessati, in questo caso soggetti interessati a esercitare il potere, da una parte e dall'altra, la logica del capitalismo, che è il prodotto di soggetti interessati all'utile. E questa è la parte finale dell'esperienza intellettuale e anche umana di Weber. Weber vede che le due logiche sono diverse, ma non sono contraddittorie reciprocamente, sono due lati del razionalismo occidentale. vede che non convergono perché le parallele non convergono, però tendono a sovrapporsi. Tendono a sovrapporsi e tendono a far sì che la politica venga mangiata dall'economia e che le due razionalità divengano entrambe razionalità tecniche. cioè che perdono non ogni valore perché è ridicolo, non ce l'hanno, ma ogni orientamento ha un valore, cioè che vanno avanti da solo in forma automatica. L'automatismo. E questo, questo lui lo vede a casa sua, in Germania, come tutto tutto, riesce a sostenere la tesi che a Germania, per carità, è erotica, è la migliore di tutti. Possiede una scena, è capace di una scienza che nessun altro al mondo riesce a produrre, che era più o meno verde, era l'epoca in cui i premi nobili prenderano i tedeschi. Ecco, è fatta di eroi, sono combattenti, meravigliosi, però non sanno stare al mondo. Cioè, non sanno uscire dalla tecnicità. Per cui si affidano, affidano al proprio desiderio di mettere le mani negli ingranaggi della storia. Lebel non si tira indietro. La propria volontà di mettere le mani negli ingranaggi della storia, tradotto, di diventare come Inghilterra, come gli Stati Uniti, se lo fai questa volontà sulla quale non c'è nulla da discutere, va bene così. Questo lo affidano alla perfezione della tecnica. Questo per adoperare il titolo di un libro dei fratelli e nonni di Einstein, Friede. La perfezione. Beh, la tecnica è perfetta, certo, è il mondo che è costitutivamente imperfetto. E chi crede di stare nel mondo con la tecnica perde. Perché non afferra, rifiuta, teme, teme l'irrazionalismo etico del mondo. Non lo vede. Cioè, non vede che a questo mondo la politica non la si fa soltanto con la responsabilità, calcolando le conseguenze del proprio, provando a calcolare le conseguenze del proprio agire. Come vedete, siamo sempre all'interno di una concezione individualistica, volontaristica della politica. Cioè, c'è qualcuno che fa politica e che deve essere certamente capace di calcolare le conseguenze del proprio agire. Certo. Dopodiché deve, se vuole fare politica, nel modo efficace, cioè vincere. Deve essere capace anche di fronteggiare l'altro aspetto della realtà, a questo punto tra tutte le virgolette, cioè l'aspetto della irrazionalità costitutiva. Il fatto che in questo modo i valori ci sono, però non sono fondativi della realtà, non le danno fondamento, stabilità. Anzi, sono elementi demoniaci, sono il conflitto. E se sei un politico che vuole vincere, a un certo punto devi essere capace di decisione, cioè di fare qualche cosa che non è razionale, che tu fai perché la fai. Cioè, la ragione politica, convergente con la ragione economica, convergente forse tutte quanti con la ragione tecnica, con gli automatismi della burocrazia, della pronunzione. Questa è qualche cosa di superficiale, la potenza della superficie, ma sotto ribolle la immaterialità, la infondabilità della storia. Vedete, è un pensiero politico per grandi potenze. È un pensiero politico in cui la politica è ancora a che fare con il destino. Allora, qui Weber, che è una persona seria, continuamente dice che bisogna sapere che si ha a che fare con il destino, da una parte, e dall'altra bisogna sapere che la politica non può passare se non attraverso le potenze della tecnica. Per cui, i socialisti, via, perché i socialisti, via, perché i socialisti riproducono malamente quello che avevano fatto i Bordesi. Non hanno alcuna immaginazione, alcuna idea, non sanno quello che fanno, credono di essere alternativi e invece sono dentro le stesse logiche. E questa è una posizione reazionaria da sempre, la troviamo come leitmotiv del pensiero reazionario, di lì a un paio d'anni sono cose che dice Cashman. Borghese e socialisti sono la stessa cosa, però non come lo dicevano i pensatori della destra che contrapponevano a questa simbiosi. No, borghese e socialisti, lo spirito nazionale, o che so io, ai mercanti contrapponevano gli eroi. Quindi la tesi di vedere è che la politica è una cosa seria. Deve essere fatta attraverso le potenze che sono a nostra disposizione, che sono stato, capitalismo, produzione industriale, tecnica, burocrazia, tutto quello che è. Dall'altro bisogna sapere che queste realtà, queste procedure, queste modalità non bastano a darci quello che vogliamo, cioè il successo. Non basta. Detto in un altro modo che la politica continua ad avere bisogno di un umanesimo impossibile. Continua ad avere bisogno di una proiezione in grande di un disegno e di un ideale, che le persone serie sanno che è impossibile. Mentre i pocoseri ci credono e fanno le rivoluzioni come quelle che l'aveva in un rivito, la rivoluzione in Baviera, che era fatta da quelli che noi oggi chiameremo fricchettoni, che predicavano un mondo da figli dei fiori, aborriva queste cose. Dall'altra, il perfetto tecnocrate lo sa, è uno che perderà. Infatti la Germania, che si vanta della sua efficienza impressionante della produzione bellica, con Rathenau che fa funzionare la produzione bellica come un orologio, la Germania perderà la guerra, perché non sa fare la politica. La politica non è questa cosa, questo è lo strumento della politica. E al tempo stesso non ci si deve montare la testa con la faccenda dell'erosimo, perché non è così che si vince a questo mondo. In questo mondo le opzioni sono autocontradditorie. Tecnica, vissuta con disincanto, agire fondato sulla convinzione, vissuto con disincanto. Il termine famoso con cui si chiude il suo antinopera non importa continuare. Il grande politico è uno che sa che le strade sono chiuse e tuttavia non cede e va avanti. Questo segno di impossibilità e al tempo stesso di estrema consapevolezza colloca bene sicuramente nell'ambito del pensiero negativo. Nel momento in cui la mediazione moderna rivela tutta la propria forza e al tempo stesso infondativa. Non differenzia di chi è venuto dopo di lui, cioè del suo vero prosecutore che è Karl Schmitt. Non differenzia intanto perché deve essere un protestante che è un cattolico, perché Karl Schmitt crede nella incompatibilità di economia e politica. Cioè le logiche dell'economia sono logiche che non sono le logiche della politica, non ci assomigliano neanche. E poi perché Karl Schmitt comincia sostanzialmente dove non è per finire, cioè nel momento della scoperta della non razionalità della ginecola. Anche lì naturalmente c'è l'idea che questa non razionalità non deve essere un pretesto per trasformare la politica in un gioco di fantasia da cui l'odio di Schmitt, come l'odio contro i romantici, grande nemico del romanticismo per i tedeschi, qualche cosa di diverso da quello che è per noi. Il romanticismo sta ai tedeschi come Dante sta all'Italia. Entrambi detestano dal profondo dell'anima il romanticismo, che crede che la politica sia letteratura. Ecco, vi chiudo perché viene messo fra i realisti politici. Non perché creda nella realtà, cioè nella consistenza della politica. Ma perché crede che la politica è il destino e che il destino è il potere e che il potere prende la forma del sapere tecnico, dell'agire tecnico, che è una forma inevitabile e al tempo stesso una forma insufficiente. E non c'è modo di uscire da questa contraddizione. Non è per niente un autore facile e sereno. E la sua utilizzazione negli Stati Uniti, via da Talcott Parsons, come il teorico dei tre tipi di potere, è un'utilizzazione decontestualizzante, parzialissima. Deve sta dentro una crisi epocale. Praticamente la sua vita è quella crisi. E lascia dietro di sé, lascia dietro di sé una tradizione di pensiero nella quale sia figlio spurio o figlio naturale, si è dibattuto a lungo su questo, uno come Karl Schmitt si installa abbastanza facilmente, anche se lo stesso Schmitt non muore d'amore per Weber, ha frequentato i suoi seminari. e il capitolo principale della sua opera più importante, il giornalismo di teologia politica, l'ha messo nella French Shift per Max Weber. Naturalmente sulla secolarizzazione Max Weber la interpreta come lo svanire della sostanza sotto l'impulso dello spirito soggettivo e Schmitt su questo ride, perché dice che ci sarà anche lo svanire della sostanza, ma c'è il permanere delle forme argomentative della teologia che sono una gabbia, da quella sì, da quella non ti liberi, Weber avrebbe detto, ma io ho detto che quello svanire della sostanza ha come risultato finale il politeismo dei valori, cioè il proliferare delle sostanze in conflitto. Non stiamo dicendo due cose molto diverse, se Weber avesse avuto voglia di rispondere a un giovane come Karl Schmitt, cosa che da l'alto della sua cattedra universitaria non avrebbe mai fatto. Bene, io mi fermo e adesso do la parola al professor Francesco Tuccani che è un specialista di Max Weber e correggerà tutto quello che ho detto. Grazie per l'attenzione. Bene, spero che mi sentiate. Ringrazio Gramsci, Emilia Romagna, ringrazio gli organizzatori di questo seminario molto opportuno e ringrazio anche il professor Galli per questa riflessione, diciamo a 360 gradi.